Dog Sitter, il Piemonte ha il suo elenco regionale. È stata infatti approvata a maggioranza nell'aula di Palazzo Lascaris la proposta di legge di Paolo Ruzzo, la Forza Italia, che prevede l'istituzione dell'elenco e definisce la figura dell'accompagnatore di cani attraverso competenze acquisite in corsi di formazione specifici. Ho pensato di istituire un regolamento dove quelle persone preparate professionalmente, iscritte alla Camera di Commercio, che svolgono quindi come attività professionale, quella di Dog Sitter, possono iscriversi e quindi altrettanto coloro che ne hanno bisogno possono, scorrendo questo registro, verificare quelle sono le persone preparate per poter dare loro un'adeguata risposta. Anche il relatore di maggioranza Federico Perugini, Lega, ha ribadito la valenza fortemente sociale del provvedimento. Moderatamente soddisfatta Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre relatrice di minoranza. È una piccola risposta, una delle difficoltà che alcune famiglie hanno dovuto affrontare durante la pandemia nella gestione dei loro animali e anche un segnale di attenzione in vista di un periodo, quello estivo, che purtroppo molto spesso è segnato dal dramma degli abbandoni. Altre relatrici di minoranza sarà di sabato, Movimento 5 Stelle, secondo cui l'elenco dei Dog Sitter contribuirà a valorizzare una professione non ancora riconosciuta a livello nazionale. E Monica Canalis, Partito Democratico, che ha ricordato la necessità di distinguere tra assistenza ai proprietari di animali d'affezione, tipica dei Dog Sitter, e la cura degli stessi animali che compete ai veterinari. Durante l'esame del testo è stato approvato l'emendamento di Ruzzola per la valorizzazione delle competenze di chi svolge professionalmente attività di assistenza degli animali d'affezione. Il nostro paese è secondo in Europa per il possesso di animali da compagnia. Secondo un rapporto Censys del 2019, in Italia gli animali domestici sono circa 32 milioni, di cui 7 milioni sono cani e 7 milioni e mezzo gatti. L'Associazione Nazionale Medici Veterinari ha evidenziato come i proprietari over 65 siano saliti dal 21 al 24% del totale negli ultimi 7 anni, facendo emergere il ruolo sociale degli animali nel compensare la solitudine. Esiste poi il comparto economico dedicato, che viene stimato in 5 miliardi di euro con un tasso di crescita del 12% negli ultimi 3 anni e le voci principali nelle spese per il veterinario e il pet food. Nella discussione generale sono intervenuti Marco Grimaldi, Libri Uguali Verdi, presentatore di 27 emendamenti, tutti respinti e decaduti, ad eccezioni di uno, Paolo Bongioanni, fratelli d'Italia, lo stesso Ruzzola e Maurizio Marello, Partito Democratico.